Buonasera a tutti e benvenuti alla Night Session su Bitcoin con analisi evoluta di giovedì 19 ottobre. Sono le 23.09, stavo guardando Alma Letale, il primo che è semplicemente un film sensazionale, un capolavoro, e lo stavo facendo perché non mi sono fidato ad andare long. Quando c'è stato il vincolo sul quarto T-3 inverso ho pensato che potesse essere ancora questo il caso, e invece poi siamo andati oltre la 44esima barra, e quindi eccoci qua ad avere un per ora quarto T-3 inverso a 27 barre, con la mancanza di un top che arrivi a pareggiare almeno quello a 28.955 dollari. Perché anche non ho fatto questo movimento? Anzi, non ho seguito questo long. Per il fatto che c'erano una quantità di appuntamenti vari, tra cui anche Powell alle ore 18, che rischiavano di creare dei movimenti temporanei non eccezionali, per cui ho preferito per prudenza non muovermi attendendo di vedere che cosa stava succedendo, anche perché, attenzione, qui se dovessimo invece scendere e non tornare rapidamente sopra questo massimo, dopo le 20 barre fatte, rischiamo al solito raccordo, giusto? Per cui, portate a casa già il nostro gain con la discesa fatta, piccola ma onesta, ho seguito gli indici e questo non l'ho tradato. Come sapete non vi racconto come altri magari che ho fatto una giornata epica di trading quando non ho fatto assolutamente invece niente. Peraltro qui manca appunto una chiusura di, per ora, nuovo T-3, lo possiamo chiamare, anche perché è salito ma non ha fatto cose particolari, e potremmo anche chiamarlo nuovo T-2, nuovo T-1, eventualmente, e quindi manca un pezzo, anche un possibile ritorno verso questo minimo. Intanto stiamo aspettando appunto di comprendere se da qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, saremmo al settimo T-3 inverso, ma essendo anche potenzialmente al sesto, questo possa essere appunto un raccordo inverso. Qui si scenda, si chiuda il T-3, dalla ventiquattresima barra in poi, e come detto, lato indice, siamo già arrivati a 26 barre. La condizione per la chiusura c'è, ok? L'abbiamo già, qua ce l'abbiamo, primo T-3. E' anche vero che questa media mobile è quella che ci sta dicendo tante cose, se superata si prova a tornare su questi livelli, e vedete che continuiamo ad andare a cercare di superare i 28.943-950, ok? Prima, seconda, terza volta, e riprendiamo sempre il tentativo, però dopo essere andati a toccare la media mobile a 50 periodi. Per questo motivo, per quella che è l'aspettativa principale di rimbalzo, ok? Preferirei prima vedere, chiudere, anzi, preferirei. Sì, sarebbe comodo, mettiamolo così, perché intanto il mercato e gli indici e le cripto non fanno quello che io preferisco, ma anzi, si divertono a volte, come oggi, a insegnare tante cose, e sarebbe più comodo, mettiamola così, che prima si chiudesse appunto in maniera degna il primo T-3, questo T-3, e che poi si valutasse eventualmente un altro long, ok? Anche perché qui si potrebbe andare a chiudere poi un ciclo a 4 giorni. E qui, ripeto, siamo tanto in bilico con un rischio di raccordo, e non abbiamo ancora appunto chiuso il T-3. Direi che è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, torno da Martax Rigs, e ci sentiamo domani. Arrivederci!